La retrocessione dell'Aquila Calcio in Serie D dopo la sconfitta nei play-out con il Rimini pone l'ultimo tassello su un'annata che, sportivamente parlando, è stato un vero e proprio incubo, forse tra le peggiori che la città ricordi, sicuramente la più nera del post-terremoto. Al fallimento dei Rosso Blu si somma quello dell'Aquila Rugby, scese in eccellenza dopo una stagione perennemente trascorsa in fondo alla classifica, senza dimenticare un altro unafragio, quello della Miternina Calcio, che torna in eccellenza dopo la parentesi in Serie D. Il tutto in una città ed in un territorio dove, a differenza di altre realtà, il denaro che, che se ne dica, gira è anche parecchio, grazie ai cantieri della ricostruzione, con imprese ed imprenditori che pure hanno provato ad investire nello sport. Investendo male, evidentemente, sei risultati sono quelli appena registrati negli sport di punta del capoluogo, mentre in quelli cosiddetti minori, dal basket al pattinaggio, soprattutto nei settori giovanili, qualche soddisfazione è arrivata. Il tutto mentre ormai ad un passo dal completamento lo stadio di Acqua Santa, che molti sognavano di inaugurare con il prossimo campionato di Lega Pro e che invece ospiterà i match di quella che una volta si chiamava quarta serie. Un vero peccato. In molti in questi giorni si sono scatenati sui social network con proteste, analisi e commenti, compresi quello del sindaco, che ha parlato, riferendosi alla retrocessione dell'Aquila Calcio, di errori, di debolezze, di sottovalutazioni e spesso anche di solitudine di chi era alla guida del suo dalizio. È necessario, spiegato il sindaco, sia per il calcio che per il rugby, di lineare percorsi, stendere progetti a breve e a medio termine, partendo dalle risorse umane e finanziarie disponibili e ricorrendo a professionalità certe e corrette. Professionalità. È forse questa la parola chiave per rilanciare lo sport, al di là della retorica dell'Aquila che vuole tornare a volare, in una città dove gli spazi di aggregazione sono sempre meno e dove anche una semplice partita rappresenta un momento di serenità per trascendere da una realtà ancora fatta dei cantieri e una città alla ricerca di se stessa. Grazie a tutti.